Signor Silvio, io desideravo fare una precisazione ai politici consiglieri, e in particolare al tuo Corrado, appena che si riesca dall'equivoco, noi stasera non approviamo il progetto intero riscaldamento, non mi interessa che sia più chiaro che sia privato, noi stasera approviamo la variante urbanistica. La variante urbanistica è semplicemente finalizzata, farsi che altri, un'azienda municipalizzata, realizzi il terreno riscaldamento. Io non entro nel piano finanziario della società, non entro nella conferenza, non dal proprio progetto che non mi riguarda, quindi io stasera pur avendo illustrato la necessità del terreno riscaldamento, avendo profuso qualche parola o qualche iniziativa, unicarendo che non si dovesse a più riscaldare di questo incarico, ci tengo a precisare che stasera approviamo questa variante urbanistica che è prototica all'esecuzione di questo progetto che altri saranno a realizzare. Quindi non confondiamoci a quello che lo fa, non vuole essere rischiato, delle cose che io non ho studiato, molto noto, non ho confondito, perché non sono di competenza questa sera, questo è possibile. Grazie.